bentornati nell'orto in telechia ebbene siamo già a marzo da un lato l'ultima possibilità per le semine tardive dell'invernale pattern 1 dall'altro le prime vibranti occasioni per la semina dell'estivo pattern 3 e come due correnti complementari oggi qui si incontrano si concretizzano in una vorticante consociazione tra patate fave ceci e cicerchia ma procediamo con ordine il primo giorno tutto ha inizio dal ritrovamento di quattro patate intente al risveglio nella sacrale fase della ripresa vegetativa volti a valorizzare questa costellazione di germogli muniti di affilatissima lama li tagliamo uno ad uno nella consapevolezza che in questo modo partendo da un singolo tubero potrà nascere una pluralità di piante la buona tradizione contadina a questo punto suggerisce il trascorrere del tempo necessario affinché i tagli possano rimarginarsi infatti al mattino già dopo una sola notte di riposo l'interfaccia del taglio presenta un buon gradiente di essiccazione da cui scaturisce asciuttezza e compiacimento parallelamente dalle cristallizzate scansie del ghiacciaio artefatto dalle profondità del sonno ipotermico a inizio il risveglio delle fave un miscuglio evolutivo multivarietale che dopo una prima gloriosa annata 2020 senza aspettative ma con fiducia ora si prepara per una nuova stagione in questo frangente non possiamo fare a meno di rivolgere un pensiero colmo di gratitudine a tutte le persone da cui questi semi provengono ebbene a questo punto entra in gioco la tecnica dell'ammollo in presemina compiuta nella variante valida come trattamento anticrittogamico naturale proprio grazie all'aggiunta di ingredienti appropriati a cominciare dalla soluzione idroalcolica di propoli nel dosaggio di 10 gocce per ogni litro d'acqua come si può vedere a contatto con l'acqua la dissoluzione del propoli è immediata però non si può dire lo stesso con l'olio essenziale di melaleuca le cui oleose 10 gocce al litro comprensibilmente non si mescolano all'acqua bensì rimangono a galla ma a noi non ci interessa poiché conosciamo la potenziale efficacia di questo rimedio e siamo consapevoli di come questa non emulsionabilità non sia di fatto un problema e così alla calda luce di una stella madre ormai volta al tramonto le fave si appropinquono ad imbibirsi in una reidratazione che tra le altre cose ha anche la funzione di velocizzare la germinazione e questo è un aspetto certamente determinante poiché in una semina tardiva di fine stagione tornerebbe tatticamente utile una nascita un po più accelerata al sorgere del terzo giorno è giunto il tempo di primissimo mattino infervorati accorriamo a prelevare le fave a loro volta festosamente incoraggiate dalle gocce d'acqua che tutte assieme animate in una gioiosa danza celebrano questo solenne momento che merita tutta l'attenzione e la premura del mondo affinché possa compiersi al meglio sul piano narrativo parallelo ormai le patate sono più che pronte da questo punto in poi l'ulteriore disidratazione significherebbe un progressivo sguegnimento a discapito della vigoria dei germogli e per la rubrica non buttiamo via niente in via del tutto sperimentale in questo atto finale di preparazione alla semina istintivamente riversiamo l'acqua di ammollo delle fave alle patate chissà che anche loro possano trarre giovamento dalle essenze che quest'acqua contiene ci diciamo e via pronti alla fase operativa muniti di metro intuitivo volto alla corretta installazione del primo picchetto corrispondente alla linea 1 con la cordella in fibra naturale improvvisiamo un cappietto della giusta dimensione per favorire l'ancoraggio alla base del ferrico picchetto il passo accompagna il moto rotatorio e dispiega la rappresentazione fisica della gloriosa linea 1 che con disinvolta naturalezza raggiunge infine il secondo picchetto come tocco finale una lesta soppesata al grado di tensione poiché non sia mai che rimanga un po storta e si parte sulla iguola pazientemente ben lavorata in corrispondenza di quella che non potremmo identificare in altro modo se non linea 2 iniziamo a tracciare un solco dapprima con la fedele zappetta a cuore e poi con la fedelissima mano fino al raggiungimento della volumetria e della pulizia desiderata ora è il momento delle protagoniste indiscusse e le posizioniamo col germoglio verso il cielo a seguire ecco le rigonfie fave altrettanto importanti messe a postarelle di circa 3 4 o 5 semi in questo modo sequenziamo un'alternanza di fave e patate a ripetizione come un lungo codice binario che guarnisce tutta la fila e poiché qui all'orto in telechia siamo spesso volti alle semine fitte tra le patate lasciamo circa 60 centimetri e di conseguenza le fave cadono più o meno a 30 centimetri dalle patate l'idea di base per questa consociazione oltre che dalla compatibilità per il tempismo di semina è suggerita anche dal portamento slanciato che contraddistingue questi due ortaggi per questo posti al centro della iguola per concludere un velo di terra ricopre il tutto tanto quanto basta a garantire protezione favorendo al tempo stesso una nascita non troppo faticosa eventualmente ci sarà sempre tempo per un rincalzo ci diciamo al quarto giorno questa grande opera volge al compimento con arrogante irruzione dei ceci ad uso alimentare ricevuti in dono dalla nostra amica ritina ritù in questo frangente non facciamo in tempo a prendere minimamente in considerazione la possibilità di fare le postarelle che la mano è già partita e vada sola con una semina che si colloca tra la fila e lo spaglio imprimendo nella gestualità un inno all'abbondanza di una stagione propizia in questo caso il ceci in linea 3 può essere interpretato sia come una pianta da raccolto ma anche come una semplice pacciamatura viva a onorare questo giorno si aggiunge la cicerchia ricevuta in dono dai nostri amici valentina e riccardo direttamente dalla basilicata e con la stessa logica dei ceci la seminiamo nella linea 3 a presenziare come pianta a portamento tra il prostrato e il cespuglioso nonostante questi semi non siano tanti quanti i ceci anche qui scegliamo di abbondare non potendo fare a meno di osservare come coltivando piante in realtà in qualche modo si stia coltivando il ricordo la memoria il legame con altri esseri umani e allora come poter non citare la dolce ivana che il mattino dell'ultimo giorno dell'esame di maturità subito prima del mio turno mi scherse una poesia porgendomela in dono tra le mani si sbriciola e poi ci copre ed è curioso come dà la vita grazie a tutti grazie a tutti